Qual è il parallelismo che possiamo fare fra l'ideologia, il gender e altre realtà che ci sono state nella storia? Sicuramente noi abbiamo ben presente quello che è successo nel secolo scorso con le grandi dittature e le ideologie che c'erano dietro a queste grandi dittature. Specialmente l'idea principale, cioè quella di voler omologare tutti, rendere tutti uguali, ma questa idea di uguaglianza in realtà è stata molto pericolosa perché ha provocato grandi sciagure. La stessa cosa succede nell'ideologia gender, cioè si vogliono eliminare le differenze tra uomo e donna, ma questo qui va contro quello che è la natura stessa, la creazione stessa e quindi toglie completamente quello che è la differenza e quindi il dono nella diversità. Ecco, perché si porta avanti questo disegno? Qual è alla base, secondo voi, il disegno che c'è e che muove questa ideologia? Ma ecco, ci sono sicuramente, il disegno è quello di creare una società formata da individui, da soli individui, tutti sconnessi tra di loro che decidono, diciamo, in ogni istante se desiderano essere uomo, donna o diciamo un'altra tipologia di genere e quindi questo sicuramente crea la possibilità di impoverire la società, quindi di togliere quello che è soprattutto la cellula fondamentale che è la famiglia e che all'interno della quale i rapporti non sono, diciamo, dettati dall'economia, ma sono dettati dalla gratuità. Ecco, quindi attaccando la famiglia si toglie questa gratuità distruggendo la famiglia e quindi creando dei soggetti da soli ecco, si impoveriscono e si indeboliscono. Un'osserata importante per il comitato ma anche per la comunità. È un messaggio chiaro, limpido, che volete tracciare questa sera? Sì, chiaramente il nostro sforzo vuole essere un servizio a beneficio di tutta la comunità laica in senso lato e nel senso nobile del termine. Tutti coloro che riconoscono in se stessi un qualcosa di più grande, un disegno profondo che è quello che coincide con la natura dell'essere umano, maschile e femminile. Per noi è importante riprendere coscienza di questo valore, di questo tesoro e fare in modo che sempre più persone appunto lo portino avanti nella maniera migliore, che è quello di cui ha bisogno oggi la società. Ha bisogno di uomini, donne, sani, coraggiosi, preparati, capaci di donare la loro ricchezza. Ecco, i relatori sono importanti in questi casi per dare lo spessore e l'importanza dell'intervento e non sono stati scelti a caso. No, noi abbiamo attinto direttamente al bacino principale, il Comitato Nazionale difendiamo i nostri figli. Come saprete il professor Gandolfini ha avuto una difficoltà imprevedibile e quindi ha ceduto il testimone, è il caso di dirlo, il testimone, perché si tratta appunto di un annuncio buono, bello, della grandezza della famiglia, all'avvocato Simone Pillon, che è un esperto di queste tematiche, oltre che naturalmente vive nel campo giuridico, che è la sua professione. Ecco, la famiglia come centralità, come pilastro della società, torna alla quale girano tanti valori. Come la possiamo difendere? Al di là di un comunicato, al di là di un convegno, qual è lo strumento col quale vi volete armare in senso buono? Ma si tratta di riprendere coscienza di quello che siamo e da dove veniamo. Un albero senza radici non può portare frutto. E la nostra epoca ha bisogno di queste risposte forti, che diano un'identità chiara al mondo anche. Allora, questa sera volete anche ribadire l'importanza, il significato e la missione educativa della famiglia che spetta a lei? Sì, riteniamo che questa qui sia un argomento centrale dell'incontro di questa sera. E riteniamo che la famiglia sia la prima educatrice dei figli. Ecco, un ruolo importante che alle volte viene surrogato da altri supporti e che bisogna recuperare come un valore antico ma importante. Sì, noi riteniamo che la famiglia sia l'unica educatrice, specialmente su questi argomenti che riguardano la sfera sentimentale, la sfera affettiva e quindi sono argomenti che spettano unicamente alla famiglia. Quindi i genitori devono educare, in questo senso, i propri figli e non demandare ad altre istituzioni questo compito. Sì, è importantissimo che le famiglie riprendano il loro ruolo di educatori, di non delegare a persone, tanto più a persone strane, a progetti che non si conosce bene quali fini poi possano avere e di riprendere insomma in mano quello che aspetta ai genitori che è l'educazione dei figli. Questi segnali un po' che vi sono arrivati anche dal mondo della scuola, di alcuni progetti, vi hanno messo un po' in allarme, vi spaventano un po'? Allora, più che spaventare, ci preoccupano sì un pochino perché non sono chiari, non hanno diciamo che non hanno le stesse finalità per cui noi stiamo educando i nostri figli, quindi hanno altri fini, quello di togliere la differenza maschile e femminile per poi far sì che ogni figlio, ogni ragazzo decida da sé che cosa vuole essere. Noi riteniamo invece che è importantissimo che mente e corpo siano veramente unite sotto questo aspetto perché poi comunque vediamo che c'è equilibrio, c'è più serenità. Allora, partiamo dall'affermazione di Papa Francesco a Tbilisi, recentissima appunto e quindi quanto mai, come si vuol dire, attuale. Insomma, è in atto questa guerra mondiale? È così? È realmente così? Io sono tanto contento che il Santo Padre abbia nuovamente ripreso l'argomento, non è la prima volta che lo fa, ma questa volta i media non hanno potuto ignorarlo per la durezza delle parole che ha usato, perché è veramente una guerra mondiale. Andare cioè a decostruire nel cuore dei bambini, nel cuore dei ragazzini, l'identità di genere, la propria identità personale, il proprio maschile o il proprio femminile, è un atto criminale. Significa costruire persone che non abbiano più certezze, se non sia neppure la certezza di essere maschio o femmina. Quali certezze poi potranno essere costruite nella vita di queste persone? Quindi il Santo Padre che conosce bene l'uomo, la Chiesa maestra di umanità, ci dà un allarme, un allarme globale. E questa è una guerra mondiale che non fa prigionieri. È una guerra che io preciso sempre, non è mai contro le persone, anzi immediatamente dopo il Papa ha precisato che noi non abbiamo nulla né contro le persone omosessuali né contro le persone che vivono una situazione di disforia di genere, di difficoltà a accettare il proprio corpo, anzi quelle sono le prime vittime che vanno accolte, che vanno consolate, che vanno sostenute, assolutamente. Ma chiunque promuova queste ideologie e peggio, chiunque porti nelle scuole queste ideologie e il trasformi in insegnamenti curricolari, come sembra che addirittura dopo la legge sulla buona scuola questo governo voglia imporre agli studenti di ogni ordine e grado, beh questo no, questo va arginato. Ecco qualcuno aveva insomma tirato un sospiro di sollievo quando il Papa disse chi sono io per giudicare un gay, forse si aspettava uno sdoganamento to cure così, in realtà nessuna confusione su questa affermazione del Papa. Ma l'affermazione del Papa è assolutamente coerente con la morale cristiana e con l'impostazione che noi abbiamo, chi sono io per giudicare è perché nessuno può sentirsi migliore o peggiore di un'altra persona, ciascuno di noi ha i suoi peccati, io c'ho i miei e mi bastano e mi avanzano e quindi andare a giudicare quelli degli altri minimamente non è un'attività che spetta al cristiano compiere, però dietro a quella parola, dietro a quella frase c'è stata poi una serie di precisazioni che hanno identificato il vero nemico che sta in queste ideologie maligne, malvagie, addirittura poi il Papa in altre occasioni ha usato parole come colonialismo ideologico, come colonizzazione, come addirittura trasformazione dei giovani in gioventù itleriana, ha usato parole durissime che solitamente tra l'altro non usa per altre ideologie o per altre questioni. Ecco, in questo caso quindi abbiamo un'allarme forte e a me preme ricordare a tutti i genitori, a tutti i genitori che stanno ascoltando in questo momento che la nostra Costituzione e la nostra legge impone ai genitori non solo il diritto di educare i figli ma anche il dovere di educare i figli. Allora questo è qualche cosa che i genitori debbono rivendicare davanti alla scuola, davanti a chiunque cerchi di indottrinare i propri figli. Bene, la Costituzione, la legge dello Stato e anche tutte le normative internazionali ricordano che spetta ai genitori questo arduo difficilissimo compito. Questo comporta un impegno, l'impegno che è quello di partecipare alla vita scolastica, di prestare molta attenzione a quello a cui i figli vengono accostati anche a scuola, partecipare agli organi elettivi della scuola, quindi un invito a tutti i genitori credenti, a tutti i genitori che vogliano, anche non credenti, ma che vogliano comunque riprendere in carico l'educazione dei figli. Non possiamo più fare deleghe in bianco. Quali sono le armi, gli strumenti che un genitore, una famiglia, una comunità che ha determinate ideologie, che vuole portare avanti alcune convinzioni come questa, può mettere in atto per difendersi? Qual è l'anticorpo per questa infezione globale? Primo, informarsi. Secondo, formarsi. Terzo, uscire di casa. Buttare il telecomando e venire a incontri come questi, in cui ci si incontra di persona e si discute insieme. Quarto, partecipare agli organismi istituzionali della scuola, consigli di classe, consigli di istituto, farsi eleggere come rappresentanti. Quinto è un'opera, ripeto, di anche informazione personale, leggere, approfondire le questioni, non dare nulla per scontato, ma la prima cosa che io dico sempre è questa. Torniamo a parlare con i nostri figli, torniamo a incontrare i nostri figli, torniamo a interpellare i nostri figli, perché se non lo faremo noi, lo farà qualcun altro. E poi, se qualcuno è credente, anche la preghiera in una battaglia, in una guerra mondiale come questa, è un'arma vincente. Bene, intanto un ringraziamento a tutti voi che siete intervenuti così numerosi a questo incontro a cui abbiamo lavorato tanto, per il quale siamo grati naturalmente al Comitato Nazionale Difendiamo i nostri figli. Voi sapete che il professor Gandolfini ha avuto un impedimento improvviso, quindi non ha potuto essere qui presente, ma ha passato il testimone alla persona del Vice Presidente del Comitato, l'Avvocato Simone Pillon, che abbiamo il piacere di avere qui con noi, e quindi ci illustrerà questa tematica così delicata, così attuale, e mi ha dato il permesso appunto di bypassare il ricchissimo curriculum personale, professionale e anche umano, basandoci solo su questi pochi elementi, li posso dire, sono evidenti, quindi maschio, sposato, padre, avvocato e quant'altro. Allora un applauso e un grazie da parte nostra. Grazie, grazie a voi, si sente? Grazie di cuore, scusate il ritardo, ma oggi è stata una giornata un po' complicata, sono andato a Lancona stamattina e poi sono tornato a Perugia per vedere ogni tanto i miei figli, faccio anche questo ogni tanto, e poi stasera sono qui da voi e sono contentissimo di poterlo fare. Doveva esserci il professor Gandolfini, ma quando non ci sono i cavalli si fanno trottare gli asini, e allora sono arrivato io, quindi Massimo mi ha chiamato e mi ha chiesto di sostituirlo, perché ha avuto un problema serio in famiglia, anzi se qualcuno volesse ricordarlo nelle preghiere, sapete che Massimo ha una famiglia molto, insomma, con problemi. Ecco, allora, sono qui questa sera per parlarvi di alcune tematiche, di molte tematiche, siete tantissimi, quindi io non mi aspettavo una cosa così, pensavo una cosa più ristretta, allora cercherò di essere breve, perché mi interessa soprattutto dialogare con voi, quindi un'oretta, non di più, e poi voglio, se siete d'accordo, se ritenete, voglio essere a vostra disposizione per delle domande, perché magari c'è qualche genitore che ha qualche dubbio, c'è qualche insegnante che vuole dei chiarimenti, e siccome la guerra mondiale che stiamo combattendo è una guerra senza esclusione di colpi, è importante che ci possiamo confrontare reciprocamente. Allora io parto, e poi al limite, ripeto, se qualcuno ha qualche dubbio ne parliamo dopo. Siamo davanti a un bivio, l'umanità è davanti a un bivio, anzi, Papa Francesco ci ricorda che non viviamo in un'epoca di cambiamento, ma viviamo un cambiamento d'epoca, e è proprio così. E il bivio davanti al quale ci troviamo è essenzialmente una scelta tra due antropologie. Allora, una piccola premessa, cos'è un'antropologia? L'antropologia, lo dice la parola, discorso sull'uomo in greco, è una idea di umanità. Le idee di umanità non sono tutte uguali, vi faccio un esempio di una idea di umanità. Se voi andate a vivere in India, scoprirete che là l'umanità è divisa in caste. Ci sono i paria che sono quasi vicini alle bestie, anzi, le mucche sono trattate meglio dei paria, perché le mucche nessuno può toccare, sono bacche sacre. E poi ci sono le caste via via più alte e così via. Questa è un'antropologia. Un'altra antropologia è per esempio l'idea di uomo che aveva il nazismo, per cui esistevano delle razze inferiori che dovevano asservirsi e delle razze superiori che dovevano controllare il mondo. Questa è un'antropologia. La domanda che vi faccio è questa, le antropologie possono essere criticate? Cioè io posso dire che un'antropologia razzista è sbagliata o no? Perché in epoca di relativismo ciascuno vi dice no, ma quella è la tua verità, ma la mia verità è un'altra e non c'è più nulla di oggettivo. Io invece rivendico il diritto di criticare le antropologie, perché viva il cielo fino alla fine degli anni 60 negli Stati Uniti d'America una persona di colore non aveva gli stessi diritti di un bianco nei civilissimi Stati Uniti d'America. Allora è un'antropologia giusta o sbagliata? Posso dire che era sbagliata? Io penso di sì. Allora anche oggi c'è un incontro-scontro tra due idee di uomo, tra due antropologie, possiamo dire tra una antropologia relazionale e una antropologia individualista, ma tutto a radici lontanissime. Quindi adesso dobbiamo fare cinque minuti di filosofia. Se qualcuno si addormenta mi fa segno con la bandierina così e io immediatamente interrompo la parte filosofica. Ma è interessante perché se volete scoprire che cosa succederà tra qualche anno nei nostri parlamenti, nelle nostre scuole, nelle nostre università, andate nelle facoltà di filosofia e andrete a sentire quello che tra un po' diventerà la moda corrente. Allora dicevo, dobbiamo affondare un pochino le basi nell'antropologia filosofica di tanti anni fa. Conoscete Platone? Platone. Questo signore qui era un filosofo, no? Da sempre l'uomo si interroga su se stesso che senso ha la mia vita, da dove vengo, dove vado, perché la sofferenza, perché la vecchiaia, perché la morte, perché la malattia, perché la gioia. Queste domande sono domande che albergano nel profondo del cuore dell'uomo e a parte noi che siamo una generazione alienata con Facebook, con la TV, col telecomando, e non ci poniamo più queste domande e viviamo senza mai diventare adulti, per cui io conosco persone di 80 anni, no di 80 no, però di 50 sì, che sono bambini nel corpo di un cinquantenne, ma allora, siccome non c'era la televisione, la sera che facevano? Accendevano il fuoco. E davanti al buio della notte, contemplando magari le stelle, con questo fuoco davanti che ardeva, si chiedevano, ma che senso ha la mia vita? Ecco, dobbiamo tornare a farci qualche domandina, anche noi. Dobbiamo tornare a chiederci, ma che senso ha? Ma chi sono io? Un puntino così nell'immensità del cosmo. Chi sono? Ecco, loro se lo chiedevano. E Platone, facendosi queste domande, giunge a determinate risposte. Platone dice, si confronta con la realtà e dice, ma vediamo, qua ci sono dei posti, ce n'è una fila intera per chi è in fondo in piedi, se volete accomodarvi, ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, in seconda fila c'è pieno di posti liberi. Allora, Platone vede la realtà, si confronta con la realtà e si accorge di che cosa? Di quello che forse anche tu puoi tranquillamente riscontrare nella tua vita, che il tuo animo è capace di commuoversi davanti a un tramonto, è capace di scrivere poesie se sei innamorato, è capace di dire cose stupende, ecco appunto di parlare con Dio, di pregare, di parlare con Dio. E poi c'hai il corpo. E il corpo è il corpo. Il corpo intanto non è come lo volevi, lo volevi diverso, di la verità. Di la verità, non dimmi le bugie. Se sei bionda, volevi essere mora, sicuro. Se sei mora, volevi essere bionda. Se sei alta, volevi essere un po' più bassina. Se sei bassina, volevi essere un po' più altina. Le donne poi su questo. Ma anche i maschietti, eh? Io per esempio due o tre capelli in più, due o tre, mica tanti, eh? Due o tre in più. Il tuo corpo, soprattutto per i giovani, per i ragazzi, il corpo è un limite terribile. I brufoli, piuttosto che per le ragazze magari un chilo di più. E allora è difficilissimo accettare il proprio corpo. Ma è ancora più difficile accettare i limiti del proprio corpo. Ma come? Io parlo con Dio, mi commuovo, ho un'anima capace di contemplare le meraviglie del creato, ho un'intelligenza capace di comprendere i segreti della scienza e della tecnica, e poi devo andare al bagno tutti i giorni. Ma che è questa cosa orribile? Allora Platone si dà una risposta. E dice, l'anima e il corpo. Tra queste due realtà c'è una dicotomia, c'è una divisione. E l'anima è prigioniera del corpo. Io sono la mia anima, dice Platone, e il corpo è un resto animale che mi porto in giro, una specie di incrocio tra un cammello e una scimmia, non so che cosa, che prima o poi, finalmente, lascerà libera l'anima con la morte. L'anima finalmente liberata dalla prigione del corpo. Perché sono partito da così lontano? Perché in fondo oggi stiamo vivendo una nuova fase in cui il corpo è nuovamente vissuto come qualche cosa che abbiamo. Quante volte avete usato l'espressione il mio corpo, oppure ho un corpo? Platone era esattamente di questo avviso. Ma attenti però, perché se noi partiamo con questa idea, con questa concezione, allora se il mio essere è legato al fatto di essere semplicemente un'anima prigioniera di un corpo, potrei parlare, per esempio, di Cartesio, che dice che l'essenza dell'uomo è nell'intelligenza, cogito ergo sum. Quindi tutto quanto non è intelligenza non è uomo. E siccome il mio corpo è qualche cosa che mi porto dietro, lui lo definiva come un orologio, una bella macchina che funziona, dopo un po' si rompe, la si aggiusta, poi si rompe del tutto, si butta via. Questo era secondo Cartesio il corpo. Allora la mia essenza è divisa in due parti, la res cogitans e la res extensa, le chiamava lui. Attenti però, perché se c'è questa divisione all'interno dell'uomo, tra anima e corpo, e non c'è più unità interiore, figuratevi se la società che è fatta a misura d'uomo non è anch'essa divisa. E allora Engels ragionando, un altro filosofo barbone, dibuitate di quelli con la barba, sono pericolosi, no scherzo. Allora, Engels dice se l'essere umano è diviso al suo interno, a maggior ragione lo è la società. E sapete tra chi e chi è divisa? Tra maschi e femmine. Tra maschi e femmine. Lui va a categorizzare la società e la divide in categorie. E dice la prima, la primordiale battaglia tra il servo e il padrone, tra il proletario e il capitalista, come dicevano prima di lui, Hegel e Marx, ecco che in Engels diventa la battaglia primordiale tra il maschio e la femmina. Ma perché questa battaglia primordiale? Perché dice il corpo del maschio è più forte. Mentre il corpo della femmina è più fragile. E non solo è più fragile, mensilmente ha un problema di carattere fisico e ogni tanto resta incinta e durante la gravidanza la donna è completamente, soprattutto negli ultimi giorni, incapace di badare a se stessa. E che cosa è successo, secondo Engels, nella storia? Che l'uomo, con il suo corpo più grosso, più grande, più forte, più in salute, si è approfittato di questa superiorità per porre la donna in una condizione di inferiorità. Ecco, dice, la madre di tutte le ingiustizie, l'ingiustizia dei corpi. Ma siccome Engels, figlio dal punto di vista ideologico di Platone, dice il corpo non sono io perché tu sei la tua anima, la tua capacità di pensiero al limite, ecco che allora bisogna eliminare ogni differenza e siccome i corpi non ci definiscono in nessun modo, oggi con la tecnologia noi riusciamo a appianare ogni differenza. Dice, ma io mi sento femmina nel corpo di un maschio. Benissimo, non c'è problema, chirurgia plastica, sistemiamo tutto, ti amputiamo quello che c'è di troppo, ti innastiamo quello che c'è di meno e ti facciamo diventare quello che pensi di essere. Attenzione, ma è vero che noi siamo il nostro pensiero e basta e che i nostri corpi non ci definiscono in nessun modo? Perché le ideologie possono essere anche false e anche le antropologie possono essere false. Bene, questa intuizione è sbagliata e cercherò di dimostrarvelo in due minuti ma credo che ciascuno di noi se si soffermi a pensare realmente al sé non potrà che convenire con il fatto che certamente il corpo è una parte di te. Certamente non hai un corpo ma sei un corpo. Poi non è che sei solo un corpo, sei molto di più del tuo corpo, lo so bene, ma se penso ad esempio che cosa hai provato la prima volta che hai baciato il tuo ragazzo o la tua ragazza guardo i giovani se io chiedessi adesso a un giovane in sala o anche a un meno giovane perché mica ha detto quando dice ma è il suo marito quel signore lì accanto? Eh, sì? Quel signore lì accanto adesso dice è un baldo sessantenne ma ai tempi 70? va bene, tira là. apposta ma allora era o non era un principe azzurro meraviglioso ma quanto era bello la prima volta che l'ha visto ma come era un principe la prima volta che l'ha baciato ma ha baciato con la lingua dico a noi i bacetti quelli da quattro soldi che emozione ha provato e dice io di solito quando chiedo questa cosa la gente mi dice ha provato un tuffo al cuore ha provato un'emozione fantasia mi sono sentito toccare il cielo con un dico perfetto tutte cose che non dovrebbero esistere perché tu dovresti rispondermi dicendo ho sentito una specie di verme rosa che cercava di entrarmi in bocca che schifo ecco perché tu però non sei il tuo corpo e basta tu sei molto di più del tuo corpo il tuo corpo è un medium delle tue emozioni ma nello stesso modo tu sei anche definito dal tuo corpo io stasera guardando il tuo corpo posso capire se sei triste se sei felice posso capire se hai passato una giornataccia orrenda oppure se tutto sommato non è andata male posso anche intuire qualcosa del tuo carattere se guardo il tuo corpo posso anche capire se sei pigro o no posso capire molte cose dal tuo corpo perché il tuo corpo parla di te noi siamo anime incarnate altrimenti non esisterebbero le malattie legate alla psiche le malattie cosiddette psicosomatiche per cui tu vai dal dottore e dice ma lei sta benissimo e no non sto benissimo perché sei depresso e sai che c'è che dopo un po' si ammala anche il tuo corpo sei depresso ma si ammala il corpo oppure viceversa tu stai benone sei un sacco su di giri stai di ottimo umore poi ti diagnosticano una malattia di quelle brutte e anche l'umore e ti si deprime anche l'anima diventi improvvisamente triste ma vi sto facendo esempi banalissimi scusatemi la banalità delle cose ma perché vi sto dicendo questo perché qualcuno va in giro a insegnare ai nostri ragazzini nelle scuole che il tuo corpo non conta nulla che se tu sei maschio se tu sei femmina perché il tuo corpo parla della tua mascolinità della tua femminilità perché in ogni tua cellula c'è scritto xx o xy bene questo non conta nulla perché tu non puoi essere definito dal tuo corpo perché è la tua anima la tua mente la tua psiche che decide se sei maschio se sei femmina allora questa corrente filosofica arriva a maturazione con questa signora qua che vedete che si chiama Judith Butler Judith Butler riprende il tema di Engels e dice certo la vera lotta di classe si svolge tra maschi e femmine e come possiamo risolvere questa ingiustizia che nei secoli ha costretto la donna in una posizione inferiore eliminando la differenza sessuale superando la differenza sessuale al punto che lei dice anche dato e non concesso che i sessi siano solamente due e lei dice e non è concesso perché i sessi secondo lei sono più di due in ogni caso ciò che conta è il genere ecco la parola gender in inglese cioè la autopercezione che la persona ha di sé l'autopercezione e dice non esiste che la nostra percezione di sé debba essere limitata dal sistema binario maschile femminile deve essere molto di più attenti perché la condizione poi successiva è una donna intelligente è una lesbica che abita con la sua compagna ma è assolutamente ha molti proseliti e quindi dobbiamo studiare il suo pensiero perché è uno degli epigoni del gender del pensiero gender è lì che dobbiamo andare a studiare e a cogliere dove sono gli errori che poi diventano diventano corso nella scuola di tuo figlio perché non stiamo parlando di una roba che sta solo chissà dove diventano una legge dello stato italiano diventano un regolamento del comune allora l'errore di fondo dove sta sta nel fatto che lei dice attenti bene parole sue il genere è performativo cioè è una performance il fatto che io sia maschio è legato al fatto che la parola performance in inglese è la performance teatrale per esempio io sono su un palcoscenico e sto giocando un ruolo poi vado di là mi cambio torno di qua vestito da donna e gioco un altro ruolo poi vado di là mi cambio e torno di qua vestito da conte Dracula e gioco un altro ruolo ancora ecco secondo lei il genere è qualche cosa che ciascuno indossa la mattina la sera come gli pare cioè è una performance ma questo ha una conseguenza e lei stessa a riconoscerlo dice che questo si paga con la morte dell'altro incarnato queste parole a me hanno agghiacciato perché lei ha colto il punto l'altro deve morire l'altro incarnato il corpo dell'altro deve morire che significa questo che dobbiamo uccidere tutti no non è questo lei sta dicendo un'altra cosa che è molto più sottile sta dicendo cioè che se io non posso definirmi maschio o femmina perché io voglio essere libero di essere quello che mi pare va bene automaticamente non posso più neanche accettare il tuo corpo come fai tu a definirti maschio o femmina se tu fossi nato su un pianeta deserto come faresti a definirti maschio o femmina impossibile perché perché la tua sessualità ti parla di relazione cioè tu sei maschio perché perché hai visto una femmina hai visto una femmina hai confrontato il tuo corpo con il suo sai che il tuo corpo è diverso dal suo e sai quindi che il tuo corpo è maschile e il suo corpo è femminile quindi tu ti definisci maschio o femmina in relazione ma nel momento in cui tu non vuoi più farti definire maschio o femmina perché decidi tu quello che sei e guardate che ci sono 58 60 generi 70 quello che è e ci si va da cis femmina a trans femminile a femminiello a mille 78 appunto 58 appunto ufficiali se andate su facebook 58 poi li vedremo se io non mi faccio più definire dal corpo dell'altro vuol dire che l'altro deve morire cioè io non posso più neanche guardare al corpo dell'altro non posso più neanche relazionarmi col corpo dell'altro queste che sono intuizioni filosofiche adesso insieme vediamo che cosa diventano nella pratica che cosa diventano nei libricini per i nostri figli questo è lo stereotipo da abbattere si dice noi siamo schiavi degli stereotipi dobbiamo uscire dagli stereotipi chi è questa cosa del maschile dello stereotipo il maschio è quello con la barba prendiamo una femmina facciamole crescere la barba e poi la facciamo diventare un grande cantante per esempio oppure che è questo stereotipo che i maschi fanno solo lavori di tipo tecnico eccetera invece le femmine fanno lavori di accudimento allora no noi dobbiamo assumere maschi che facciano l'ostetrica e femmine che facciano il camionista e allora bisogna spingere in questo senso che è questa cosa che le donne vogliono fare le mamme chi l'ha detto che le donne devono fare le mamme che è questa cosa che ci sono i papà allora questo settimanale che purtroppo balzato agli onori delle cronache per fatti tutt'altro che piacevoli in due parole scrive quello che stiamo dicendo adesso la vera felicità la vera libertà la vera liberazione è togliere di mezzo papà e mamma togliere di mezzo papà e mamma perché perché papà e mamma sono esattamente quel doppio binario che ti obbliga a sapere che l'umanità è divisa in due e cioè ci sono differenze tra maschi e femmine ci sono differenze tra il maschile e il femminile e la prima delle differenze che tu incontri è proprio quella del papà che non è come la mamma il papà ha la voce più bassa magari ha meno capelli ha la barba la pelle sua è ispida pensate per il bambino il contatto fisico con la pelle della mamma un odore che conosce anche un gusto che conosce quando per esempio viene allattato al seno e poi lo prende in braccio il papà il papà è il papà è più grudo ma mica solo lì appena viene preso in braccio il papà è il papà anche un po' più grandini quando il papà ti dà uno schiaffone non è come quello della mamma vero? ce lo ricordiamo tutti quella volta che il papà per la prima volta ti ha dato uno schiaffone ce lo ricordiamo tutti quasi anche io ecco e la mamma non è il papà allo stesso modo ecco questo perché perché poi conduce ma lo vediamo dopo non voglio anticipare conduce ciascuno di noi a crescere a maturare a diventare uomini a diventare donne allora andiamo avanti rapidamente tutto questo è sotto attacco amici è un attacco formidabile che ci viene come vi ho detto da lontano addirittura da Platone ma che passa attraverso recenti riforme del diritto di famiglia per esempio nel 70 poi nel 78 con la legge sull'aborto l'esclusione della paternità adesso si va verso l'equiparazione dei figli il doppio cognome eh per cui perché perché bisogna questa cosa adesso ci perdiamo 5 minuti sul doppio cognome vedete perdiamo 5 minuti un minuto sta legge in Parlamento i problemi dell'Italia sono che ah i figli portano il cognome del padre è una cosa terribile eh bisogna veramente farci le leggi sopra ma vi siete mai chiesti perché i figli portano il cognome del padre interessante perché perché non portano il cognome della mamma il cognome del padre significa che quel padre dà a quel figlio la cosa più importante che gli può dare la cosa più grande e cioè la protezione di un nucleo familiare la donna gli dà la cosa più importante che gli può dare che è la vita e il papà che cosa potrà fare il papà potrà dire questo è figlio mio che tradotto significa guai a chi me lo tocca lo proteggo io lo nutro mi prendo cura di lui mi impegno i miei sforzi lavorativi li traduco in servizio per lui in crescita eccetera eccetera dice ma questo lo fa anche la mamma certo ma il fatto che quella lì sia la mamma fino a poco tempo fa lo sapevano tutti poi è arrivata la Cassazione l'altro giorno che si è inventata che c'è la mamma A e la mamma B e per cui abbiamo scoperto che si possono avere due mamme noi non lo sapevamo ma fortuna che i giudici hanno scoperto questo nuovo modo di concepire i figli meno male ma fino a poco tempo fa c'era un famoso adagio che diceva mater semper certa pater nunquam il padre cioè è colui che riconosce il figlio e come fa a riconoscerlo gli dà il cognome tu fai parte di una storia allora mi piacerebbe adesso qua con ciascuno di voi invece questo è stato sostituito ma ci arriviamo è stato sostituito perché l'attacco alla madre ormai è diventato forte e furibondo almeno come l'attacco al padre attacco alla madre non c'è più la mamma qua addirittura ci sono due padri o anche di là due padri oppure come qui ci viene raccontato nelle scuole dei nostri figli no? Margherita ha due mamme solo una l'ha portata nella pancia ma entrambe insieme l'hanno messa al mondo sono i suoi genitori ha due mamme ma voi sapete come funziona davvero sta roba? perché raccontata così è commovente belline le due mammine eccetera sapete come funziona? ci sono minori in sala speriamo di no funziona così tu vai sul sito internet tu eri convinto che per mettere al mondo un figlio ci fosse il sano vecchio sistema quello di una volta che tutto sommato a me non dispiace non so se qualcuno in sala si sente proprio aggravato da questo sistema così drammato a me tutto sommato vi devo dire devo essere sincero però no dice quello è del passato è solo per i cattolici è una roba vintage è una roba di antiquariato no? allora invece adesso il nuovo modo per fare i figli eccolo qui si va su internet si va su questo sito se poi volete anche da casa provare andate a vedere è meraviglioso e si clicca allora due mamme che vogliono fare un figlio che fanno si comprano lo sperma online allora cliccano colore degli occhi colore dei cappelli standard razza altezza in centimetri etnicità peso in chilogrammi cliccano lì e gli viene fuori una rosa di nomi di donatori poi vedremo come donano che mettono a disposizione il loro seme ovviamente legge della domanda e dell'offerta perché poi tu vai a cliccare e ci sono i vari nomi di fantasia dei donatori clicchi su uno e ti viene fuori la prima cosa che esce è la sua voce una registrazione dice ciao sono Simone Pillon compra il mio sperma il migliore del mondo poi clicchi ancora e ti viene fuori una fotografia di quando era piccolo così più o meno ti vedi come era da bambino per immaginare come ti verrà il figlio più o meno poi la terza cosa la più importante il test di intelligenza perché se è scemo lo sperma costa 18 dollari la fialetta se è un po' più intelligente 30-40 dollari se poi è una persona intelligentissima 1000-1500 se poi è un avvocato 2000 euro eh leggete la domanda dell'offerta allora tu dici stasera ma no siamo vabbè dai 20 euro via 20 euro e ti arriva quello poi c'è un tastino meraviglioso che non ho capito come funziona ancora dove c'è scritto compra tutta la produzione ma c'è davvero cioè tu clicchi e quello lì per tutta la vita si massacrerà di pippe per mandarti lo sperma non ho ancora capito se te lo manda volta in volta quindi tutte le settimane ti arriva il postino e ti dice eh signora è arrivata la razione oppure se lo mette da una parte e ti arriva tutto insieme tra 20 anni ti arriva un autobotte fuori no e tu dici non so allora vai dalla vicina dici vuole un po' di sperma signora no no grazie quello di mio marito sono cattolica ancora io ci sto ridendo e ci stiamo ridendo tutti perché mi scuso anzi lo dico perché se no mi dicono guarda che la gente poi non capisce la tua ironia io uso l'ironia perché sono un po' figlio spirituale di Giovannino Guareschi lo conoscete il papà di Don Camillo il quale diceva una cosa dice l'ironia cammina sul paradosso e il paradosso è il modo più semplice per arrivare alla verità perché molto spesso quando voi leggete le sentenze della Cassazione oppure andate a ascoltare i discorsi sul gender fatti da questi filosofi quasi che vi viene da dargli ragione perché il ragionamento è talmente articolato che alla fine dici ma no ma è giusto poverini no poi che cosa ti salva da uscire da quella trappola una risata una risata di dire ma ti pare che questi si devono massacrare i pippe per mandare ma il sanno vecchio sistema di una volta non funziona più no non funziona più allora noi ridiamo ma poi piangiamo perché qua il risultato finale è che ci sarà un bambino che quando compirà 13, 12, 8 20 anni dirà ma il papà in tutto questo dove sta? e la mamma che gli risponde? gli dice era quello da 18 dollari perché avevano finito i soldi che gli dice? che gli dice quella donna? allora andare a distruggere la mascolinità e la femminità significa inevitabilmente andare a distruggere la genitorialità togliere di mezzo il papà e la mamma e qua abbiamo tolto di mezzo il papà ma guardate che quando si toglie di mezzo la mamma è anche peggio perché se vogliamo togliere di mezzo la mamma da una generatività questa è la strada il libricino è carino in America c'è un posto dove le signore gentili donano i loro vini donano andiamo a vedere come li donano ecco qua offerta speciale 9.900 euro se c'hai l'utero però devi avere un utero dove impiantarlo se invece non hai l'utero non c'è problema guarda 29.900 euro abbiamo il pacchetto all inclusive eh? pacchetto all inclusive questo però è da barboni perché 29.900 euro è da barboni se vuoi un figlio un po' dignitoso devi andare a comprare l'ovocita di una ragazzetta che abbia minimo studiato ad Harvard e non lo paghi 20.000 dollari eh? lo paghi 200.000 dollari 250.000 dollari poi mi raccontava proprio Massimo l'altra sera che per poter fare in modo di produrre quell'ovocita bisogna bombardare quelle ragazze con ormoni perché producano più ovociti del previsto perché una donna è attrezzata per produrre un'ovocita al mese per maturare un'ovocita al mese ma lì non te ne serve uno al mese te ne servono 7-8 da fecondare a botta così e quindi una bella botta di ormoni e poi bisogna trovare una donna che ospiti quel bambino perché hanno provato a usare la stessa donna che aveva venduto l'ovocita come madre impiantandole in utero il prodotto del concepimento ma sapete che succede? che poi il bambino quella se lo tiene perché è il suo bambino allora che fanno? fanno dei bei contrattini con altre donne ovviamente a quel punto non conta più la razza l'etnicità l'intelligenza quindi le prendi indiane gli dai 4 soldi e buonanotte sapete che cosa devono fare a quelle donne? devono fare le terapie antirigetto perché quel bambino non è figlio loro geneticamente quindi devono fare delle terapie antirigetto pesantissime che molto spesso portano a conseguenze in fauste c'è qualche donna che ci ha lasciato la pelle in tutto questo allora voi capite che le ideologie sbagliate vengono pagate con la vita dalle persone con la vita e beh ci è stato detto che qui dobbiamo togliere anche per arrivare all'amore libero dobbiamo togliere tutte le strutture sociali destrutturare decostruire è la prima delle strutture da togliere di mezzo ovviamente è la famiglia perché la famiglia è il luogo dove Engels diceva la donna viene sottomessa al potere dell'uomo allora bisogna togliere la famiglia e come togliamo la famiglia legge sul divorzio divorzio breve divorzio abbreviato divorzio bricolage divorzio immediato e la legge sulle unioni civili la legge sulle unioni civili che introduce cinque modelli familiari prima c'era il matrimonio oppure no non ti vuoi sposare benissimo fai senza non è mica te l'ha detto il dottore puoi stare invece oggi abbiamo cinque modelli abbiamo il matrimonio anche qui vintage d'antiquariato per i cattolici poi abbiamo il matrimonio del futuro che sarà l'unione civile tra due maschi o tra due femmine c'era tutta stanzia di approvare le unioni civili perché sembrava che ci fossero milioni di persone che dovevano fare le unioni civili sapete quante persone hanno convolato in unione civile 12 15 fino ad oggi 12 coppie 15 coppie questi sono i numeri c'era tutta sta urgenza ma credete davvero che a qualcuno interessassero i diritti delle persone ma pensate realmente che fosse questo l'intento perché queste lobby internazionali che spingono per avere questi diritti lo fanno perché gli interessano le persone convinti sì sapete che Soros plurimultimiliardario americano ha finanziato l'Archigay faccio i nomi e i cognomi a tutto pubblico con 100.000 dollari perché perché facesse lobbying per ottenere ma secondo voi a Soros a un personaggio come quello interessano i diritti delle persone o interessa qualche cosa ad altro infatti approvata la legge sulle unioni civili immediatamente nella stessa legge sulle unioni civili ci sono gli altri modelli familiari che sono la convivenza registrata tu semplicemente portando la residenza insieme hai diritti e doveri reciproci quindi il nonno con l'abadante l'abadante tu la licenzi e quella ti fa l'avvertenza sindacale in più ti dice che aveva una convivenza registrata col nonno e quindi ti chiede gli alimenti e ti chiede anche il diritto di continuare a risiedere nella casa dove stava col nonno e tu dici ma il nonno era oltre il Viagra no no dice guarda che qualche volta ancora e poi c'è i patti di civile convivenza bellissimi c'è qualche lupo di matrimonio in sala qualcuno che ha matrimonio da più di 15 anni sulle maniche è sposato da più di 15 anni qualche lupo c'è un applauso ai lupi di matrimonio coraggio allora su che cosa litigate con la moglie vediamo dopo 15 anni sai i primi tempi si fanno le questioni di principio ma dopo 15 anni su che cosa si litiga io personalmente litigo sulle ciabatte dove mia moglie mi mette le ciabatte mi arrabbio se me le nasconde dico ma è possibile che torno a casa e non trovo le ciabatte immagino che tu litigherai non lo so io sul dentifricio dove si schiaccia il dentifricio oppure su che ne so le donne dove si alzi o abbassi la tavoletta del vater sono molto sensibili a questo argomento non ho capito perché va beh ecco allora con i patti di civile convivenza abbiamo risolto tutto questo perché perché tu vai dall'avvocato dal notaio e metti giù eh i precise le clausole per esempio io consiglio sempre ai signori maschietti mettete la clausola quella del mal di testa cioè se la signora ha il mal di testa non lo può avere per più di due sere a settimana la terza sera sono 500 euro di multa eh così che almeno però almeno ho i soldi eh oh eh che diamine oh e ai signori e alle signore invece consiglio sempre appunto la clausola della tavoletta eh 100 euro per ogni gocciolina milioni di euro che girano poi abbiamo il quinto modello familiare che è quello che diventerà residuale e cioè se io metto la convivenza la residenza insieme diventa una convivenza registrata quindi la capita adesso quella della tavoletta allora dicevo l'ultimo modello è quello legato che diciamo negli stati del nord Europa ormai va per la maggiore si chiama tecnicamente LAT live apart together cioè siccome se mettiamo la residenza insieme ci considerano conviventi abbiamo diritti e doveri gli alimenti eccetera non possiamo più convivere allora il matrimonio del futuro è che ognuno sta a casa sua live apart together ci vogliamo benissimo ci amiamo fino alle undici e mezza della sera fino a mezzanotte meno un quarto al massimo poi a mezzanotte ognuno a casa sua questo è il punto di arrivo per dire che se tutto è famiglia niente è famiglia ecco perché al modello familiare sono stati accostati questi modelli parafamiliari che io chiamo pseudo familiari cioè bugie perché si vuole arrivare a dire che tutto è famiglia non mi credete io sto a Perugia in Umbria hanno approvato una legge regionale che stabilisce che ci sono le famiglie unipersonali qualcuno mi sa definire una famiglia unipersonale cioè uno da solo è famiglia ma l'articolo 29 della costituzione dice società naturale fondata sul matrimonio come fa uno da solo a sposarsi si arriva si arriva in Canada già voi sapete che ci sono persone che sposano se stesse perché d'altronde dice se il matrimonio è un diritto per tutti e io non ho mai trovato uno che mi sposava ma permetti che avrò comunque il diritto di sposarmi e allora si sposano da soli a se stessi allo specchio così d'altronde poi riflettendo uno dice sono anni che andiamo a letto insieme è anche ora che alla fine facciamo le cose per bene io ve la metto in battuta ma guardate che i nostri figli i nostri figli pensate a un piccoletto così di sei anni cinque anni vede la prima ragazzetta e poi gli dici ma tu da grande che cosa vuoi fare quella la voglio sposare e no calma sposare è una parola grossa vuoi fare un matrimonio un'unione civile vuoi fare una convivenza registrata un patto di civile convivenza cosa vuoi fare e poi mi dovrai dire ti piace la ragazzetta o ragazzetto e poi ancora tu ma tu ti senti maschio femmina transessuale bisessuale guardate che negli stati del nord Europa già bloccano con gli ormoni il naturale sviluppo sessuale dei ragazzini in modo che si dice devono arrivare alla maggiore età per poi decidere da soli che cosa vogliono essere e anche qui voglio essere chiaro su questa questione mamma mia sto andando lunghissimo non si tratta di diritti non stiamo discutendo di quello perché nell'umanità sempre c'è stata l'omosessualità sempre sempre ci sono state persone che hanno avuto questa pulsione e il problema non è mai stato quello cioè vuoi senti fai qualche ti pare mi spiace per te tutt'al più non sai qualche ti perdi ma amen il problema è un altro il problema è che qui oggi non si mette in discussione la liceità di avere rapporti con persone dello stesso sesso qua si mette in discussione l'identità cioè non si dice io sono maschio e mi piacciono i maschi no si dice io non so più che cosa sono perché posso scegliere tra 58 tipi 60 tipi questo tecnicamente si chiama la teoria queer queer cioè l'identità di genere è qualche cosa che io posso modificare anche più volte anche nella stessa giornata la mattina mi sveglio sono maschio poi a mezzogiorno mi sento femmina poi il pomeriggio mi sento gay o non so che cosa l'esempio classico di questo era quella tipa mi sembra da Maurizio Costanzo ma non sono sicuro che va arriva questa signora questa ragazza e dice io sono femmina no 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 lei era femmina era seduta lì era femmina e dice ma lei come mai è qua perché mi piacciono i maschi ah beh si dice calma ma non in quanto femmina ma perché io mi sento maschio gay e quindi mi piacciono i maschi ecco questa è un'identità queer cioè una cosa talmente complicata che alla fine torna lì ma facendo un giro tutto strano queste cose a noi che abbiamo 30, 40, 20, 50 60 e non so quanti anni ci fanno sorridere non ci fanno fare chissà quali salti mortali ma per un ragazzino o una ragazzina che sta costruendo faticosamente la sua identità la sta costruendo magari con ancora più difficoltà perché il papà non c'è o la mamma non c'è che sta cercando uno stereotipo cioè un ancora o come dice Massimo un archetipo cioè un'idea a cui far riferimento per costruire il proprio sé queste cose lo distruggono lo distruggono penso che tutti noi abbiamo attraversato la fase non so 10-12 anni in cui siamo particolarmente attratti dalle persone del nostro stesso sesso perché si fa gruppo avete visto ancora le ragazzine a 10-12 anni che vanno in giro ma non nella mano che stanno sempre da sole perché? perché prima scoprire l'altro prima scopri gli altri tuoi simili poi faticosamente lentamente e poi sempre più liberamente e sempre più serenamente passi anche a scoprire gli altri che sono differenti da te ecco noi andiamo intercettare nelle scuole i ragazzini che stanno vivendo questa fase e vanno la ragazzina e dice vedi vai nella mano con la tua compagna sei lesbica sei lesbica e questo me la diceva una insegnante che insegna religione in una grande liceo milanese in una scuola non è un liceo è una scuola tecnica ma ha tantissimi studenti e dice guarda che adesso cosa succede che grazie a tutte queste teorie succede che le ragazzine la prima esperienza sessuale il primo bacio non lo danno più a un maschietto perché i maschi a quell'età gli fanno paura lo danno alla compagna e poi che fanno vengono da me e mi parlano dice questa cara amica e dice sai che c'è che non mi dicono sono lesbica mi dicono non so più chi sono questo è il punto non possiamo andare a toccare impunemente i meccanismi che costruiscono la nostra identità il risultato sarà drammatico ma è così vero che siamo così indifferenziati perché secondo la Butler il tuo corpo non dice nulla di te il tuo essere maschile non è minimamente stabilito dal fatto che tu abbia degli organi sessuali maschili che nel tuo corpo ci siano cellule con X e Y no lei dice che il tuo essere maschile è una tua scelta ma è così davvero?